Esordio stagionale vincente per la nazionale femminile di pallavolo. Gli azzurri hanno battuto 3-1 la Croazia nel triangolare a Lanciano che precede la Volleyball Nations League. 25-18, 25-21, 23-25, 25-19 l'andamento dei set. Davide Mazzanti ha avuto modo di sperimentare un po' la condizione delle ragazze dopo due settimane di intensa preparazione. Credo che la squadra ha solo bisogno di tempo perché il percorso l'abbiamo cominciato. Abbiamo fatto vedere che tante cose che abbiamo messo in campo queste settimane le sappiamo fare bene. Dobbiamo solo prendere confidenza e fiducia e questo farà parte del percorso. Una iniezione di fiducia contro un'avversaria che ha dato il 100% mettendo in campo un gioco brillante ed una già buona condizione fisica. Si sono viste cose buone, cose meno buone, come era da aspettarsi. Non siamo ancora al top ma dobbiamo sfruttare al meglio questi due giorni per sistemare ancora un po' le ultime cose. E' bene che poi sia venuta fuori una vittoria. Stasera si torna in campo, sarà di scena il Canada.